Senso di abbandono. È lo stato d'animo dei residenti di Ostiantica in seguito all'esclusione del quartiere dal piano di manutenzione delle strade del decimo municipio. In via Pericle Docati e in via Gianfrancesco Gamorrini, a pochi passi dalla scuola elementare materna comunale, esiste una situazione di degrado e incuria. Il marciapiede impraticabile ci obbliga a camminare sulla strada, denuncia il comitato Ostiantica Saline. Nelle immagini si nota addirittura una lavatrice abbandonata e un immenso tappeto di fogliame e rami tagliati. In quest'area, tra pochi giorni, ci saranno tantissimi bambini che torneranno nella scuola Fanelli Marini, ricorda il comitato che conclude. Il muro di cinta, crollato ormai da anni, rappresenta ancora un serio pericolo costante per il traffico locale e i cittadini. Facciamo appello agli assessori competenti per un immediato intervento.